1903 decolla il velivolo dei fratelli White 1973 fiumicino attentato di un commando di terroristi arabi 1981 le BR sequestrano il generale nato James Lee Dozier commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio direttore dell'Avvenire nel 69 scoprimmo la luna e ci dimenticamo degli UFO ma loro non si sono dimenticati di noi certo non nel cinema